Non passa il bus della Tua e due restilendi di Valle Larga, frazione di Pettorano-Sulgizio, restano a piedi. L'episodio risale a ieri pomeriggio, ma i disagi per gli utenti nell'ultimo periodo aumentano a dismisura. Due uomini, come di consueto, si sono recati alla fermata della villa comunale di Sulmona, precisamente alle 18.05 per attendere il bus della Tua in direzione Pettorano-Roccapia. Hanno atteso in vano dal momento che il mezzo non è passato. I passeggeri hanno chiesto spiegazioni direttamente alla società Tua. Abbiamo mandato un pulmino blu che andava in quella direzione, hanno precisato dalla Tua. In realtà, riprendono i due, non ci siamo accorti del passaggio di questo mezzo dal momento che solitamente arriva un bus arancione dove espressamente è indicato il capolinea. Gli utenti tornano a chiedere alla Tua di essere più precisa e trasparente nel comunicare cambiamenti di orari e di corse. Lo stesso disagio si è verificato per una donna di Valle Larga, novembre scorso, in direzione Roma, per non parlare dell'odissea dei ragazzi introdacquesi che più di una volta sono stati lasciati al freddo e a piedi dalla Tua, con le famiglie costrette a viaggi di fortuna per riportare gli studenti a casa. Di servizi anche in autostrada per le corse dirette a Chieti, dove i mezzi la maggior parte sono rotti o presentano difetti di manutenzione.